Rainbow potion Bevila! Oddio! Uh, che è successo? Posso volare! Oh mio Dio! Vedi che sei un pessimo genitore Scendi! Che ci fai lì in alto? Scendi! Su! Forza! Scendi giù! Scendi giù! Mi stai facendo arrabbiare! No, no, no! Ti pesto io col batto! Smettila! Smettila! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E qui si è Gigi a crema Minecraft E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono FraZero4TV Smeraldo80 Matteo Giulio Marco e Luca Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'altra saranno salutati altri sei eroi Oggi siamo in una custom map di Minecraft Che è di Wizardeddy Dato che abbiamo visto che in questi giorni ragazzi Il nostro video vecchio di Wizardeddy Che è di qualche mese fa Sta andando tantissimo Ci state chiedendo nei commenti di farne altri Quindi invece che tornare sul gioco classico Abbiamo deciso di provare questa mappa fatta su Minecraft Perché sembra davvero fantastica come riproduzione Assolutamente l'abbiamo vista Prima di tutto è fatta benissimo È davvero una figata questa mappa E per certi versi mi piace anche più dell'originale Quindi abbiamo detto Perché non provarla a fare su Minecraft Quindi siamo prontissimi per iniziare Che stai facendo? Ti stai cullando da solo Stai facendo Guarda me Guarda cosa devo fare per guardarti Uh bello Guardami Spieghiamo facilmente per chi non conosce questo gioco Come funziona Semplicemente io sono un povero bambino Che si è ritrovato senza la mamma Dato che è uscita E mi ha lasciato solo a casa Come padre ho una bruttissima perenichi Che mi odia tanto E quindi me ne voglio sbarazzare E voglio riuscire a farmi fuori Per scappare da questa bruttissima casa No ovviamente siccome sono un bravissimo papà Cercherò di impedire il piccolo Steph Di fare bruttazioni Cercherò di impedire in tutti i modi Di compiere gesti sconsiderati Ne farò tantissimi Ciao bimbo Ciao pupo Che fai? Ah ma puoi saltare Questa tra puoi aprire anche da solo Sì guarda È certo Perché sei un bambino malefico No sono un bambino molto intelligente per la mia età No sei un bambino malefico Davvero terribile Guarda Un bambino malefico saprebbe suonare il flauto così bene Guarda il mio schermo Sei pieno di note musicali attorno Aspetta Cerca di farlo vedere Bravo bravo Quanta creatività Che talento potresti entrare in un'orchestra Sei bravissimo come primo flauto Sei bravissimo Bravo bimbo Sì sì ma non so fare solo questo So fare anche questo Guarda aspetta Aspetta Allora posso suonare pure io Facciamo un concerto Aspetta 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 sincronizziamoci Perché qua possiamo fare l'orchestra di padre e figlio Uno Tu Due Io Ok Cioè uno tu due io Quando faccio uno Tu devi guardare a me Quando faccio uno Tu suoni Quando vado a due Sono io È già troppo complicato Pronta Vai Facciamo tutto assieme Basta Basta Ok lo butto in terra Perché basta Ok che siamo bravi Vedi vedi figlio mio Potresti evitare di pensare a brutte cose Potremmo fare un'orchestra tutti assieme Che fai? No grazie Dove sta andando? Che è questa cosa? Sto giocando Cos'è? Che cos'è? Non lo so Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Non capisco più nulla Dove sei finito? Come hai fatto a scappare? Dove accidenti sei andato? Ci hai messo un sacco a scendere E Uh ma c'era un modo per lanciarsi Si 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 puoi aprire tutto in questa mappa Mi sono nascosto Allora secondo me sei nel bagno Fai vedere da qua Non è vero Non sono qua Guarda dopo questa ti meriti Cosa stai facendo? Ti meriti a negare la pasca No Aiuto Non so nuotare Che ti serva da lezione Che ti serva da lezione Cioè io ho detto Secondo me sei nel bagno Perché mi sembrava il posto Oh scusa Mi stavo facendo cadere tutto Il posto più banale Si trovo pure lì Ma si è scontato Vedete Ha provato ad affogare il suo figlio Solo perché stava giocando a nascondino Si un padre terribile Mi ha dato un cefone Ci sono delle pillole Le vuoi? Mi ha detto Non darmi le pillole Magari ti fanno bene Ti fanno crescere Non avevi detto che eri un padre gentile? E questo? Uh sono nelle fogne Guarda Sei nelle tue botteure di casanotte Guarda Questo è l'ultimo tuo bisognino Ma è tuo quello No 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 La riconosco è il tuo Sei andato in bagno E sei pure sceso di sotto Guarda È la metà di me Come avrei potuto farlo io? Perché sei un bambino terribile Sei come quei cani Capito che sono minuscoli Proprio quando vanno in bagno Fanno una montagna Smettila Smettila Allora Queste sono le fogne Le posso esplorare Ma quanta pupa fai? È pieno È tutto È la mamma È colpa della mamma Non è colpa mia Scusami Diamo la colpa alla mamma Che non c'è in casa Quindi è colpa sua Ok È pieno di posti strani Ma sei riuscita a scendere? Sì Come hai fatto? Posso scendere anch'io Sì No papà Non è che puoi attraversare il water Solo tu che sei piccolissimo Lo posso fare anch'io Allora Già è strano se ci riuscirebbe un neonato Se ci riuscisse un neonato Un papà è un po' Ambiguo Cos'è questo bottone? A che serve? Ho fatto una pozione Rainbow potion Bevila Oddio Che è successo? Guarda Oh mio Dio Sei diventata un omino dell'Elego arcobaleno Guardami Oh ne la sapevo sta cosa Ho provato a cliccare Che bevita anche tu Ma dove hai premuto il bottone? Scusami Ho trovato un bottone qua È sparito Forse lo si può fare una volta sola No Ecco perché Volevo diventare un rainbow Eh vabbè ormai Ma sono ancora così Cioè è infinito No è finita No ancora così Ho un regalo per te Cosa? Un regalo Vieni Un regalo Ho trovato un regalo per te Un nuovo giocattolo Oddio No È un giocattolo Giocaci Aspetta È bello È bello Vieni No non me la tirare Non me la tirare Non me la tirare Aspetta Tu hai detto che è un giocattolo Via Che schifo Dai torniamo a casa Che non ci facciamo nulla Nelle fogne Dai Sicura? Mi sembra un bel posto dove giocare Sì No assolutamente no Da lì si sale? E credo di sì Cioè da qui siamo scesi Da qui saliremo Hai vinto Ho vinto perché abbiamo fatto scadere il tempo Non è giusto Non hai vinto tu Pussa via Via qua Finalmente ti posso picchiare Ti ho un mazzo di colpi Smettila Dai 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 Torniamo a giocare Su Una pozione Una pozione Cosa stai bevendo? Cosa stai bevendo? Non ti azzardare Brizi Che cos'è? Che ti sta succedendo? Aiuto Stai fluttuando Aiuto Pupo Stef Non volare Dove stai volando? Posso volare Oh mio Dio Vedi che sei un pessimo genitore Scendi Che ci fai lì in alto? Scendi Su Forza Scendi giù Scendi giù Mi stai facendo arrabbiare Ti metto in pulizione E ti rubo Ti nascondo Tutti i giocattoli Non ci credo Non ci credo Che hai fatto la casa del genere Guarda che gioco divertente Ti piace? Te lo sei meritato Rimani là Rimani là Ho vinto Come hai fatto a pensare una casa del genere? Sei troppo furbo per essere un bambino Io stavo fluttuando A un certo punto ho capito che non avevo più controllo Mi giro Vedi la vedo La vedo E mi sono illuminato Paradiso Guarda che bel quadro Sì Sei un bambino bruttissimo Sei davvero un bambino bruttissimo Non si fanno queste cose Con la palla Perché ti stai portando l'oxilofono appresso? Perché mi piace suonare all'aria aperta Smettila Allora Allora Lo so che ti ho detto che sei bravo Ma ho mentito Fai schifo a suonare No Quindi calmati Oh mio dio Vieni qua Vieni qua Sì Vieni qua Cosa sono questi cosi che si muovono? Stai facendo Mi stai piccando col bastone? Sì No No Ti penso io col bastone Smettila Smettila Ci sei? Ti sei fatto male? Scusa Non dirlo alla mamma Non dirlo alla mamma Mi hai fatto volare a 50 metri di altezza No non dirlo alla mamma A te sono sembrati 50 metri Perché sei piccola In realtà erano 50 centimetri Giusto? Ok va bene Vieni a vedere questa cosa Vieni Guardali Ciao Non fanno troppo paura Sì Molta paura Questo col bastone Andatevene via Perché vi muovete? Aiuto Andiamo via Siete super inquietanti Mamma mia No No non ci provare Non ci provare Sto cuocendo Il secchiello Il secchiello Ti spengo Ti spengo Ma mi ha dato un ceffone Non mi hai spento Ti stavo buttando giù Io non ci credo Sì ce l'ho fatto Dove sei finito? Sono andato nel tetto No Sì Scendi giù No no Scendi giù che ti è ancora bruciando Scendi giù Mi vieni Mi vieni Mi vieni di sotto Dove sei? Papà Non ci vedo Sono troppo piccolo Vieni Vieni Che hai preso scusami Perché hai preso la candela Guarda Guarda qui sotto Scendi Guarda c'è questo tasto da premere Aspetta E guarda cosa si apre Aspetta Ce l'hai fatta? Eccomi Vedi c'era un tasto da premere Guarda Cosa c'è qui dentro? Questo è l'ufficio segreto della mamma Anche secondo me Guarda ci sono due letti Ok Un tavolo Nuke Don't nuke Che vuol dire? Proviamo Nuke Che succede? Cosa? Ragazzi Che cosa sta succedendo? C'è un allarme Ho trovato un'altra Aspetta Aspetta Non richiudiamo Chiudiamo È un bunker Abbiamo fatto esplodere tutto Era un bunker Hai capito? Abbiamo Cioè Ma era una bomba? Secondo me era una bomba Cioè Ci siamo fatti esplodere Dentro il bunker Secondo me sì È una bomba che magari può attivare il bambino Ed è un altro modo per farsi fuori Non lo so Bellissimo È stato fantastico E chissà se cliccavi don't Magari non succedeva niente Non lo so Chissà Chissà È stranissimo È piena di cose Stiamo a fare Forse è addirittura meglio del gioco originale Prima di tutto Perché la grafica di Minecraft È più bella Diciamo che Ti ci senti a casa subito Capito? Ma non so perché Ma sto tipo di gioco a me piace di più Con la grafica di Minecraft Non so che dirti Cioè secondo me risulta benissimo Con la sua grafica Mi piace davvero troppo Poi è piena di cose Chissà quante altre ne dovremmo scoprire Esatto Perché secondo me Non abbiamo scoperto tutto Esatto Comunque voglio davvero fare i complimenti A chi l'ha costruita Sono due youtuber inglesi Abbiamo davvero visto Come l'hanno costruito Ho visto qualcosina Sono fenomenali Essendo tutto in vanilla Ragazzi Non c'è davvero neanche una mod Le poche cose diverse Sono semplicemente una texture pack Che si scarica Ma davvero Non c'è nessuna mod Bravissimi davvero Sono stati davvero fantastici In ogni caso ci fermiamo così Fateci sapere nei commenti Se appunto volete altri episodi Per continuare A scoprire tutte le cose Che possiamo fare Se magari volete vedere I ruoli invertiti Con io che faccio il signor papà Eh beh Potrebbe essere una bella cosa Io secondo me Ti farò dannare come bambino Preparati perché ti farò dannare Ti chiudo in prigione Non so se c'è Faccio scelodere la bomba nucleare Ormai ho scoperto Tutto bene Mi dispiace Mi dispiace Comunque Prima di finire il video Andiamo ovviamente A salutare gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Vincenzo Dani Scalo DJ Along Lukek Stefano E Raffi Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video vi è piaciuto così Se siete riusciti lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!